Informazioni, ciao Stef e Fere, sono un vostro fan, questa è una mappa per voi, è una mappa find the button parkour Oh no! Ok, ringraziamo Francesco, consolino che ha dato questa mappa, la proviamo un pochettino Fere, avevi già dato uno sguardegno tu, vero? Hai già visto un pochino come funziona? Sì, allora, ovviamente non sono riuscita a completarla, Stef, perché è molto complicata Però ti devo dire che è molto bella, allora, devi trovare un bottone in legno, tutti gli altri ti uccidono, quindi stai attendo No cheat, questo è per me sicuramente Ok E divertiti, quindi, boh Stef, che dici, iniziamo? E direi assolutamente di sì, pronta? No Ma Ok, ok Ma Ma Siamo già morti Fere? Aspetta, perché hai detto tutti gli altri ti uccidono e ci sono due start Vero? Quello abbiamo premuto però Forse dobbiamo premere questo Ovviamente quando il Fere sceglie qualcosa Questo Ok, per fortuna ho fatto io Minerali Ok, eccoci qua Allora, dobbiamo trovare un bottone Vedo dell'acqua e quindi sicuramente è da qualche parte con l'acqua Forse ho capito, Stef Digià Eh boh, forse mi è andata bene, non lo so Aspetta Ok Perché io ovviamente poi non ho controllato tutto Nello specifico Per lasciarmi una sorpresa Se non ti, non ricordo male Non ti ricordi male Ok Neanche te Ti ricordi che tipo qua Si può andare abbassandoci Vero si può notare L'avamo fatto nella mappa della prigione Questa specie di meccanica nuova Sì Ok C'è un bottone, sarà questo? Fatto Ok Perfetto Nel cielo Oh cavolo Aspetta Io dicevo perché mi sta tornando indietro Perché Se tocchi queste pressure plate Ti fa tornare indietro Ok Quindi in pratica penso che dobbiamo prendere quel blocco Con la scala lì, Stef Sì Eh Non facile Ok Come viene andare una alla volta Perché secondo me Ma Se tu sbagli Presa Finisco indietro anche io? Non lo so No perché nel caso ti metto in quarantena Spero di no, Stef Spero di no O forse sì Io il temo di sì Ho paura Se cado ti faccio tornare indietro, Stef Ormai dobbiamo continuare insieme Carina sta ambientazione comunque Molto Sì? Quindi vai solo tu, Stef Basta Bene No, no, mi hai fatto finire l'ansia Quindi ho inciampato i miei piedi Sono caduta e sono morta Ma dai Ma come è che dove sei caduta? Cioè non salta facilissimo No, allora io sono arrivata nella nuvoletta E poi ho caduto Ah dopo? Sì, esatto Ho ribalsato Ti è venuto un attimo, un momentino Sì, dopo ti chiedi No, il cervello si è spento e sono caduta Allora, Stef Ti osservo da qui e mi raccomando Sì, ma, Fer O che dicevo Questo livello è bellissimo Cioè mi piace molto Ho capito Ma il consolino è un po' cattivo con Stef Dato che tanto fare per le cose non le fa Beh, lui ha scritto no cheat Quindi sapete come funziona Io ho cheat Il parkour non li so fare Quindi Sapete bene Se ci fate le mappe Date la possibilità a Fer Di cittare Un rampino Sarebbe molto apprezzato No, sarebbe molto apprezzato Ignorata Però sì, non ci è andato per niente Guarda il prossimo pezzo Come sempre comunque Se volete fare delle mappe Trovate il link in descrizione Potete fare delle mappe E poi mandarcele Dove c'è scritto Google Drive, Mediafire, Dropbox E quelle cose lì Dovete semplicemente caricare la mappa In uno di quei siti E dopodiché darci il link Per scaricarla Allora Ovviamente non le portiamo tutte Però le più belle le portiamo Ah Esatto Vado? Vai Oh No Sto per piangere No Anche perché Cioè Io quella roba non la so fare Non lo so Oh mio Dio Ed è lunghissima Comunque secondo me Dovremmo organizzare almeno dei checkpoint Dici? È perché sennò quando la finiremo mai Steph Sì non è male come idea Dai giusto i checkpoint Lo so che non si dovrebbe fare Però giusto i checkpoint Dai Allora questo è un checkpoint Giusto? Non lo so Te li faccio io Giusto? Eh devi esserci tu Ma basta che ti teleporti Sto di me a fare Sì voglio fare così Perché? Perché poi mi sposto Perché poi mi sposto Ma dai Allora il tuo checkpoint lo vuoi qua? Sì quello blu Ok perfetto Dopoiché il prossimo è alle scale Comunque questa è cattiveria pura Perché davvero è Cioè non riesco neanche a pensarlo Allora non è difficile È stato bravo il consolino Il discorso è che è molto lungo E quindi non ti puoi mai distrarre Quindi Perfetto così Semplicemente le checkpoint Ok Ma perché cade ogni volta anche lei? Quindi andiamo qua Perché mi riporti Steph tu mi riporti lì Capito? Ah Sì Ah che cosa Quindi io devo volare E riandare al tuo checkpoint Piazzati in un buon punto Fere Qui va bene Eh ma mi hai fatto cadere Allora perché devo stare al limite Devi aspettare un secondino Che io arrivi nella zona E ti faccio ad accedere Secondo me è onesto che io No Steph Perché stai tornando indietro? Perché è giusto così Devo ripartire dalla penultima scala Ah per rifare l'ultimo Eh io lì non mi posso Non mi posso Lo so infatti Devo lanciarmi io Vola via Vola via Dopo che ci sono Vola via Ok Mi stai facendo intrippare C'è c'ero Per due ore Ah Basta è troppo scomodo Con il checkpoint Quindi Vado avanti Perché non se la può più Ok vai Eh lo so Non è che ho posto Dove fermarmi Comunque secondo me Poi Hai finito? Beh sì quasi Secondo me c'è un checkpoint Comunque qua eh Con la pressure plate Penso proprio di sì Secondo me se prendo la pressure plate Perdo E mi fa tornare indietro Ah no Aspetta Dici Eh Sì è sta roba No Da un jump boost Prova? Sì Ah Intelligente sta roba Bella Carina Molto bella che cambia così il parkour Ok Forza Ce l'hai fatta Sì Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Uff Allora start Ok Start Aspetta È come prima che ci ammazza lo start Allora non lo so Ovviamente adesso non servono più i miei checkpoint Perché mi sa che stiamo andando a fare un'altra modalità In questo livello c'è un troll Ma è fattibile C'è un troll ma è fattibile Beh il troll sta in questi quattro Ho premuto un bottone Scusa Steph Volevo capire cosa doveva succedere Fare? Eh? Che succede? Che sono in alto Tu dove sei? Eh boh mi sono bloccato lievitando Allora praticamente io ho visto Ok Che è nel soffitto Perché sono riuscita ad arrivare fino No perché torno in questo livello Sono riuscita Ad arrivare fino al soffitto Ok E c'era un buco al centro Ok Però mi sembra bloccato Tipo con dei blocchi invisibili Allora aspetta Perché ho provato ad entrarci Ma mi ha chiaramente fermato Cioè mi stai dicendo che è di quei dropper al contrario? Sì come quello che abbiamo fatto Vedi? Ok Devi schivare Ma non è che poi il bottone è nascosto in mezzo a questi Steph Però qui non puoi andare Guarda Guarda Sì E quindi è questo il troll? Penso di sì Eh se è questo il troll Allora dobbiamo cercare Vediamo qua Sto controllando se Niente Allora cerca di Non sarà caduta nel magro Eh basta che tieni pronto Vabbè Ok Dicevo cerca di non buttarti giù Di controllare le singole piattaforme È la cosa più sensata Ok giusto Perché magari Magari c'è il bottone qui da qualche parte Ok E occhio controlla anche nei lattini Cioè controlla tutto Perché È una bella cascata I consolini ci conoscono bene Sono bigliacchi come noi Secondo me sai che cos'è? Che magari ci fa credere Che dobbiamo andare in alto Ma magari il bottone invece è nascosto qui da qualche parte Ci pensi tu? Io controllo tutte le parti della lava Cliccabili ovviamente Io controllo le varie piattaforme Con ogni minimo dettaglio Perché si è detto che un troll potrebbe essere qualsiasi cosa Steph Tipo che magari davvero il bottone ce l'abbiamo sotto il naso Anche questi Questi li abbiamo cliccati tutti Nether 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 Ok niente Questi sono solo per far apparire la scritta Ok perfetto Però anche questa lava Allora La controllerei bene Io sto cercando di guardare ovunque se c'è un bottone Ma per adesso nulla Demi buone notizie Steph No per niente buone notizie No qui non c'è niente Io ho controllato tutte le pozzette Ma ti ripeto anche il dubbio che prenda poco Che quindi non sia fattibile come cosa Allora Risaliamo su Mi hai fatto sbattere Risaliamo su Ok Bene Ho appena visto Cosa? C'è un altro buco Dopo? Qua In questo angolo L'ho visto mentre salivo Come hai fatto? Eh come hai fatto a vederlo? Mentre salivo Ah no Non mi dire che è una di quei dropper Al contrario di precisione Perché poi noi qui siamo cascati Quindi vuol dire che se sbatti Non riesci Ti ricordi il livello degli smile Nell'anti dropper? Sì che me lo ricordo Anche perché poi non ricordo l'angolo Neanch'io È quello E dove c'è la piattaforma rossa? Ricordiamoci questo? Io sto andando bene Aspetta 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 Perché tu l'hai attivata a me Che stavo già sopra Sì comunque ce l'ho fatta Io ce l'ho fatta in modo onesto Ok Quindi almeno quello va bene Aspetta però Livello successivo Lì cosa c'è? Non lo so Non lo so Vabbè Però ci sono blocchi invisibili Ok Non ha funzionato Beh Ferezza la ride Auguri Steph Siete cattivissimi però Allora Questo a me sembra molto più difficile Del precedente Steph Io te lo dico Sembra molto molto più difficile Secondo me l'altro era il riscaldamento Sì assolutamente Assolutamente Sono un po' preoccupato Fere Allora Mago Devo Devo volare Perché Perché Steph Sennò ha bisogno dei checkpoint Quindi devo essere utile Eh Buono Steph Raga non ho mai visto Una scala che flutto in aria Neanche io Quindi Non ho idea neanche di come faccio a stare così Ah quindi non ci devi stare Devi usare il bordo Allora ti faccio da check No Qui sopra Sì Qui sopra Onesto Onesto Mi sembra giusto Non è esagerato come checkpoint Quindi va benissimo Rimani lì Ok È giusto così Ok Aspetto No aspetta Non andare in giro Voglio vedere No non andare in giro Da qui non si vede nulla Vogliamo lo vedere È difficile Il terzo Ho notato Ah ok Conviene farlo tutto Di fila Vabbè qui sopra No Qui c'è un bottone No devo rifare questi Perché non l'avevi fatto? No Devo rifare Ma l'ha appena fatto Ma l'ha appena fatto Ma il checkpoint Doveva essere In micro L'avevo già fatto Questo pezzo Ok Forza Steph Ci stai anche prendendo la mano Stai prendendo un bel ritmo Però lì non ti salta Porca miseria Non ti salta Ma dai Eh dai Mi sbaglio sulle cose più semplici Ok Allora Ok Grandissimo Ma no Ma no Ma no Ma no Ma che triste Lo so Vediamo un po' Ma Ma Ho imparato almeno Ma quanto è ancora lungo Sto parkour Scusa un attimo Steph Questo è il checkpoint Tu lo dico già Sì sì Sono d'accordo Mi rifiuto di rifare Tutto quel pezzo Bravo Sei un grande Bellissimo Steph Crediamo tutti Perfetto Va benissimo Stavi andando bene Il checkpoint Mettirmelo Prima di iniziare Quei salti Lì Vedi qua Sì Ok Aspetta Che c'è Non riesco bene a starci Perché vai Dovresti cadere perfetto Ok Non posso farcela Che poi l'hai visto Dov'è il bottone No Non guardo proprio Ok Perché c'è altrimenti piango No no Nel senso che Steph Non lo devi completare tutto Stai attento Ti dico solo questo Ok Perché se no Poi vai avanti Però devi tornare indietro Guardati in testa Sopra la testa Sopra la testa Steph Dici Sì secondo me è quello Dici È l'unico in legno Cioè qui non c'è niente Steph L'umanità Deve essere corretta Io senza di te che voli Non l'avrei visto Ok Allora fai E quindi devo fare E praticamente avresti continuato questo Ti saresti chiesto Che cosa non va E niente E questi come si fanno Minuscoli Sì Ma che ansia Tutti uguali così Pensa senza checkpoint Che cadi E finita la tua vita Ecco come adesso Dai rifarlo da qui sopra Ti prego Steph Che se no rimaniamo tutta la giornata Non so neanche quanti livelli siano in tutto Steph Quindi magari siamo ancora Agli inizi Ci manca ancora un sacco di roba Perché non so quanti livelli abbia creato Steph Allora vedi che non ci sono Poi è difficile Voglio premere il bottone Ho visto che c'è un bottone Lo premo È comparsa all'improvviso Io vado Grazie Ok Piazza Qui il tuo pulsante Piazza qui il tuo pulsante Ah avete finito Ehi Complimenti Meno male Era l'ultimo livello Comunque molto carina Steph Molto molto carina Non hai fatto una ceppa È bellissimo allo stesso Non hai fatto una ceppa Ti sei divertito allora tu che l'hai fatto Sì Ti è piaciuto? Sì Molto più carina di tanti parkour che si trovano in Minecraft Sì Molto molto carina Ben bilanciato Ben fatto Divertente Davvero carina Ringraziamo ancora Francesco per la mappa Ci siamo divertiti Ci fermiamo così Qua sotto come sempre con un po' di altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao